Io ho scelto questo sport perché è molto divertente, è espressivo e ti fanno molto divertire. Allora, perché a me piace tanto fare spettacoli, fare esercizi, allora ho scelto questo sport. E anch'io mi piace molto fare ginnastia perché si fa cose bellissime. A me garbava perché facevano salto e mi garbava salto. A me perché mi piace fare le acrobazie. Mi piacevano fare le capovolte. Quattro anni. Quattro anni. Quest'anno sono cinque anni. Questo è il secondo. Da dieci giorni. Facendo questo sport mi sono fatte molte amiche. Sì, io ho trovato Sofia, un'altra Sofia che non conoscevo e mi sono trovata bene, insomma. Sì, l'ho trase molto di amiche. Io vorrei diventare la campionessa. Sì, mi piacerebbe tanto essere brava a fare tutte le cose. Essere la più brava ginnasta del mondo. Io vorrei fare le olimpiadi e mi caraberebbe molto essere brava a questo sport. Non una campionessa, però mi caraberebbe essere brava. Mi caraberebbe.